...mettere di caldo che è il capogruppo Grini, quindi siamo presenti tutti e semplici qui... ...anche a Estra? ...anche a Estra, esatto, grazie per essere qui, ci manca anche a Patrice, Manca di Miestra, che ci devo dire, grazie per avermi fatto presente, chiedo la disponibilità consueto per la commissione elettorale da parte della Vodena, da me e da Androsi, partirei con il primo pugno del giorno, la provozione dei verbali dei sottili consigliari del 14-27 giugno e delibere dal 24-41, direi con i consiglieri del 14-27 giugno, del 24-41, del 24-41, Grazie 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 Grazie